Vince il fanfulla 2 a 0 e passa il secondo turno dei playoff fase nazionale, siamo con Filippo Guerini, decisivo direi in questo ultimo turno, insomma un grande fanfulla, soprattutto nel primo tempo, secondo tempo avete gestito il vantaggio? Sì sì sì, nel primo tempo abbiamo giocato come sapevamo e abbiamo ottenuto due gol importantissimi, poi ovviamente è finito il primo tempo sul 2 a 0, il secondo tempo ci siamo gestiti un po' di più, ci siamo chiusi in difesa e non sono riusciti a bucarci. Chiusi forse un po' troppo, magari si aspetta qualche contropiede in più, un pizzico, qualche rischio nel finale? Esatto, quando ci si difende è sempre un punto di domanda perché ovviamente gli avversari si alzano, cominciano ad attaccare e noi potevamo partire in contropiede ma loro veramente sbagliavano, veramente poco e quindi abbiamo sofferto un pochino però è andata bene. Insomma la tua prova è stata importante, so che in settimana hai avuto qualche problema, hai voluto essere a tutti i costi ugualmente e decisivo con l'assist settimana scorsa e decisivo oggi con un altro assist? Sì, allora dopo la partita è andata, praticamente mi sono pizzicato un pochino il menisco, mi si era gonfiato il ginocchio, mi sono allenato solo sabato mattina, ieri mattina, la rifinitura, però oggi volevo essere in campo e ringrazio i fisioterapisti che mi hanno messo perfetto proprio. Adesso non è ancora finita, c'è l'ultimo atto altrettanto importante. Esatto, sì, l'ultimo atto che dà valore a tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e non molleremo niente e sicuramente daremo il massimo.